Benvenuti nel mondo Beauvais. Beauvais è un marchio svizzero di orologi di lusso fondato nel 1822 da Edward Beauvais. La sua storia inizia nel 1818, quando Edward Beauvais e i suoi fratelli partirono dalla Svizzera alla volta della Cina, dove erano noti per la loro abilità nell'arte dell'orologeria. Durante il loro soggiorno in Cina, i Beauvais costruirono molti orologi da tasca di alta qualità, diventando famosi in tutto il paese. Beauvais è oggi un marchio di fama mondiale, noto per la sua maestria artigianale, la qualità dei suoi materiali e il design innovativo dei suoi orologi. Il processo di produzione di un orologio Beauvais è estremamente complesso e richiede molte ore di lavoro. Gli artigiani Beauvais utilizzano solo le tecniche di lavorazione più avanzate per creare orologi che durano nel tempo e offrono prestazioni di altissimo livello. Il marchio collabora con numerose organizzazioni benefiche in tutto il mondo, contribuendo a migliorare la vita di molte persone attraverso il potere dell'orologeria. Inoltre, il marchio svizzero ha sviluppato anche un forte legame con il mondo dell'arte, collaborando con artisti e gallerie d'arte per la creazione di orologi unici e personalizzati. Questa attenzione per l'arte e per la creatività si riflette anche nella produzione degli orologi Beauvais, che sono spesso caratterizzati da decorazioni artistiche e da disegni unici. In conclusione, il marchio Beauvais è un'azienda che rappresenta al meglio l'arte dell'orologeria svizzera, con una lunga storia alle spalle e una continua attenzione per l'innovazione e la qualità. Grazie alla sua attenzione per i dettagli e alla sua continua ricerca di nuove tecniche e materiali, Beauvais continua a mantenere la sua posizione di leader nel settore degli orologi di lusso, offrendo ai suoi clienti prodotti unici e di altissima qualità.